Le tanto agoniate buste paga sono arrivate ma solo in forma cartacea perché dei soldi ancora nemmeno l'ombra è di ombre. Su questa vicenda ce ne sono e tante anche. A cominciare dal futuro degli oltre 80 lavoratori in tutta la provincia, cosa che ha spinto le sigle sindacali a proclamare per la giornata di oggi quattro ore di sciopero a norma di legge per rivendicare gli stipendi. I dipendenti della Solaris non lo percepiscono da luglio e quelli della Croce Verde non hanno avuto la quattordicesima e la mensilità di novembre sarebbe a rischio. Ci sono questi quattro ore di sciopero dalle 7 e tre quarti alle 11 e tre quarti. Poi i lavoratori torneranno a svolgere il loro lavoro per non recardarlo la cittadinanza tutta. Ecco comunque c'è un passo in avanti, le buste paga sono arrivate quindi i prossimi step quali sono? Finalmente Solaris ha consegnato le buste paga inerenti i mesi di agosto e settembre. Il prossimo step sarà un incontro in direzione territoriale del lavoro con i dirigenti di Arevasta e Solaris per ratificare i pagamenti degli stipendi e avviare la procedura di surroga da parte di Arevasta. Dalle 7 e 45 alle 11 e 45 questa mattina sigle sindacali e lavoratori hanno anche presidiato la sede dell'Asur in via Ceccarini a Fano e chiesto un incontro per verificare tutte le strade possibili e percorribili per sbloccare questo stallo. Facciamo sì dei passetti in avanti e lottiamo ancora per far avere le retribuzioni ai lavoratori ma la battaglia più grossa sarà quella di conservargli il posto di lavoro, la salvaguardia. E anche delle ultime ore una missiva da parte degli studi legali della Solaris che recede dall'acquisizione di aziende. Come mai? Sì, in effetti abbiamo avuto contezza di una lettera inviata dagli studi legali della Solaris, è arrivata ieri sera, dove ci mettono al corrente la volontà di voler rescedere dal contratto. Questo per noi non è una situazione del tutto negativa perché il fatto che loro rescedano dal contratto a noi ci fa un bel sperare che possa arrivare un soggetto in grado di garantire la retribuzione dei lavoratori. C'è anche un'iniziativa del Consiglio Comunale di Fano che è pro lavoratori delle ambulanze. Sì, infatti noi siamo molto contenti dell'iniziativa presentata al Consiglio Comunale di ieri sera dove sostanzialmente tutti, sia i capigruppo che i consiglieri presenti, hanno firmato una petizione per sollecitare la sanità a inserire nell'interpello la salvaguardia per l'occupazione. Grazie. 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 Grazie.